L'estate a Napoli quest'anno è bambina. Circa tre mesi di eventi da luglio a settembre sono dedicati all'anniversario della Real Casa Santa dell'Annunziata che per secoli ha accolto attraverso la ruota degli esposti i bambini abbandonati. La presentazione del cartellone con l'assessore alla cultura e turismo Nino Daniele si è tenuta non a caso nel suo corpo della Basilica che sarà protagonista con il suo cortile di una settimana di spettacoli serali nel mese di agosto. Prendendo ad occasione i 700 anni della fondazione della Real Casa dell'Annunziata abbiamo deciso che il focus dell'estate quest'anno fosse proprio dedicato ai bambini e ai ragazzi di Napoli perché dobbiamo comprendere i problemi, vederne la condizione difficile ma comprendere che sono anche per noi la più importante risorsa per l'avvenire soprattutto in un periodo di così acuta crisi demografica come ci viene più volte ricordato e anche per il fatto che tanti i nostri ragazzi sono costretti all'emigrazione. La manifestazione organizzata grazie ad artisti, associazioni, operatori culturali che hanno risposto alla chiamata dell'amministrazione prevede rassegne teatrali e cinematografiche, spettacoli musicali, concerti, reading, danza, mostre e si svolgerà in tutta la città. Eventi al Moschio Angioino e dei Cumani, al Convento di San Domenico Maggiore e al Vomero, nella Villa Floridiana e al Real Bosco di Capodimonte coinvolti anche il Parco archeologico del Pausillipo nel Quello del Poggio con appuntamenti alla Sanità e sul Lungomare. Il programma completo è consultabile sul sito del Comune. Guardate il programma, secondo me è un programma bellissimo, sono più di 80 giorni di attività, 400-500 eventi, mille artisti impegnati, quindi veramente tutti possono trovare un'occasione per stare insieme. Abbiamo anche il cinema, il Parco del Poggio, quest'anno abbiamo una novità, a Santa Chiara ci saranno i film in versione originale, quindi con molta attenzione anche ai turisti, sia italiani sottotitolati sia in lingua originale con titoli sottotitolati in italiano.